Prosegue il cammino verso la riforma sociosanitaria. Venerdì 2 luglio la Commissione Sanità dedicherà un'intera giornata all'ascolto delle associazioni dei pazienti che operano in ambito sanitario. Lo faremo in una logica di workshop, lavoreremo insieme la mattina per ascoltare i punti di vista, il pomeriggio la restituzione con la Vicepresidente Moratti per poter portare concretamente la voce dei pazienti e le proposte. La nuova legge sta prendendo forma grazie ai contributi e agli spunti emersi in questi mesi. Il 14 luglio si chiuderà la fase delle audizioni e dentro fine anno è prevista l'approvazione della riforma. Vogliamo essere la prima regione in Italia a integrare i fondi del PNRR e per farlo dobbiamo riformare la nostra legge sulla sanità. Siamo partiti con tre sedute a settimana, un'ampia discussione e dibattito con tutti gli stakeholder del sistema sociosanitario Lombardo. Siamo già oltre metà, tanti spunti sono arrivati e li abbiamo integrati.